Dimmi che hai un fratello, senza dirmi che hai un fratello. Hai rotto le palle, hai rimet... Dai, carico! Non è carico, non è carico, rimetilo, non mi interessa. Dai, 75%! Non è carico, non mettilo, ti prendi un caricatore e te lo carichi, ok? Non lo da trovo, non me ne frega. Sono un bambino. Eh, ok, insieme, dai, mettilo stessi. Non ho comprato da bambino, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Dove stai andando? Eh? In bagno. Certo, adesso che hai bisogno sparicchiare devi andare in bagno, vero? Come tutti i giorni. Ti viene adesso. Certo, ti viene adesso, ma certo. Tanto io ti aspetto, io non sparicchio fino a quando non scegli adesso. Sì, sì. No, non sto scherzando. Grazie, grazie. Sto uscendo. Stai, stai uscendo? Di nuovo? Ma non sei uscita anche io. Ma, 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 non è vero. Perché non mi scuda un sacco? Almeno sei sempre in giro, sei sempre in giro. A casa non ci sei mai. Quando, quando stai a casa è come se non ci fossi. Sempre con il telefonino in mano. Ma, ma non è vero. Perché non ti trasferisci direttamente con i tuoi amici, tanto? Sei sempre con loro. Vai, vai, vai. Ricordati che questa casa non è un albergo, eh. Io non sono la vostra schiava qua che fa tutto. Non mi, non mi interessa, non mi interessa. Vai, 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 tanto ormai Tanto ormai Non te ne frega niente Delle cose che succedono a casa Niente E anche ora dovresti tornare Non lo so, ma non credo tardi Certo, è come l'altra volta che sei tornato Sì, 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 va bene Ti chiudo la porta, guarda Sì, va bene Ciao Mi chiamo Daniele Ah 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 Sto poter gestando Sto poter gestando Grazie a tutti.